Siamo in diretta alle 7.46 per sfogliare i giornali, i giornali che come sempre troverete nelle vostre edicole di fiducia, tra poco vedremo il resto del carlino, il Corriere Adriatico del Messaggero, prima invece di Santo del Giorno con la chiesa che oggi ricorda Sant'Agata, il sole sorto alle 7.20 e tramonterà le 17.24. Il tempo 6 gradi alle 7.36, 6 gradi con poco vento, ma in realtà dobbiamo dire, come vedete dalle immagini della webcam, che anche oggi la giornata non sarà dal punto di vista meteorologico un granché. Infatti la protezione civile delle marche, come potete leggere anche da soli nel vostro televisore, per la giornata di oggi segnala precipitazioni diffuse sul settore a nord della regione, con precipitazioni a carattere di rovescio, con cumulate moderate, venti forti dai quadranti orientali, con raffiche di burrasca fino a lungo la costa e sono previste anche delle mareggiate. Il limite delle nevicate verso sera sarà intorno ai 900 mille metri, quindi vedete sulla costa la pioggia e poi nell'entroterra invece la neve. Per venerdì 6 di febbraio precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio, limite delle nevicate intorno agli 800 metri, le temperature ancora in lieve diminuzione, il mare sarà molto mosso. Per sabato 7 febbraio ancora precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio, più insistenti nel settore meridionale della regione, le temperature in ulteriore lieve diminuzione, i venti dai quadranti settentrionali deboli o moderati, il mare sarà mosso. Per quanto riguarda i prossimi giorni ancora condizioni di instabilità per la prima parte di domenica con tendenza ad un marcato peggioramento dal pomeriggio verso sera, quando l'eruzione di aria fredda di origine artica, quindi il gelo come è successo già qualche settimana fa, determinerà nevicate fino a quote basse ed in particolare per la giornata di lunedì 9 febbraio. Quindi possiamo dire, incrociamo le dita, ma possiamo dire che per la giornata di domenica andrà un po' dura per il carnevale di Fano, ma staremo a vedere. Allora, adesso cominciamo la rassegna con i giornali. Il resto del Carlino. Il resto del Carlino apre con una notizia di cronaca. La morte, l'uccisione di un professore dell'Università di Urbino. È stato ammazzato, forse a coltellate, forse con un corpo contundente. Il corpo è stato anche parzialmente bruciato. Si chiamava Massimo Bevacqua, 42 anni, originario di Rossano Calabro, in provincia di Cosenza, dal 2008 docente di lingua araba a Pesaro Studi e a Tunisi, dove insegnava italiano nell'Istituto Italiano di Cultura. Lo vedete in questa fotografia. L'incontro di Lucia Annibali, ieri in Vaticano, nell'Aula Nervi, dove ha incontrato Papa Bergoglio. Lucia, tu per tu con il Papa, saluto intenso di pochi secondi. L'incontro nella sala Nervi, lui sorride. Vedete in questa fotografia un momento in cui lo sguardo del Pontefice si incrocia con quello di Lucia in particolare. Poi in realtà, come vedremo tra poco anche nel Messaggero, poi tra l'altro l'udienza l'abbiamo trasmessa anche noi, probabilmente l'avranno vista in tanti anche ieri mattina in diretta su Fano TV, dicevo in realtà Lucia poi è stata presentata dall'Arcivescovo di Pesaro, Piero Coccia, e quindi ha avuto modo evidentemente anche di scambiare due parole, poi veramente due di numero perché quando si è in coda per il baciamano non è che ci sia tanto tempo a disposizione. Andiamo sulla pagina di Fano. Monossino, monossido neonato salva tutta la famiglia, una tragedia sfiorata a Cucurano, la mamma si accorta che il piccolo era strano, quindi sono andati tutti all'ospedale, hanno fatto gli esami, hanno visto che c'erano dei valori molto alti e così tutta la famiglia ha dovuto fare questi esami e avevano assorbito un po' tutti questo monossido di carbonio, però dicono insomma roba da poco. Romoli invece, l'ex presidente di Aset torna come consulente, come avvocato in comune, quel bando era molto congeniale, i requisiti richiesti rispondevano alle sue caratteristiche. L'avvocato ex presidente ha vinto con 95 punti su 100, il concorrente con appena 56. La nuova vita della lista civica La Tua Fano, seri dicono sta trasformando la nostra città in un quartiere di Pesaro, La Tua Fano a favore della variante sull'ex zuccherificio, l'ex sindaco Stefano Guzzi, oggi consigliere comunale, esprimerà parere positivo nel consiglio comunale in cui si voterà l'approvazione definitiva della variante. Sul caso Sfratti, approvata la moratoria, ha vinto lotta per la casa, unanimità in consiglio sulla mozione, ora il sindaco la sottoporrà al prefetto. Un'altra scuola con il metodo Montessori, a Fratterose il collegio docente ha già dato l'ok, si aggiunge all'asilo. Mentre a Urciano scrive Italia di M, puntini puntini sulla bandiera, sul tricolore, a processo per Vilipendio, un ragazzo di 26 anni, rischia fino a 5 mila euro di multa, il suo avvocato dice la bandiera non era la sua. Mondo Cane Expo, riapre la fiera a Pesaro, presentata la manifestazione internazionale con 1500 allevatori. Ricci, grande opportunità per la città. Drudi, il presidente della Camera di Commercio, dice Campanara è salva. Ancora dai giornali, dal quotidiano Corriere Adriatico, la pagina di Pesaro, arte e cultura sull'asse Pesaro e Urbino. Vittorio Sgarbi ha incontrato i sindaci di Pesaro e Fano e anche il prefetto. Sgarbi lavora ad un biglietto unico per i musei del territorio. Nei mesi estivi la mostra rinascimento privato. Campanara, polo di attrazione per gli sport minori e poi, sempre dal Corriere, tasse, Pesaro comune più virtuoso. Delle Noci, l'assessore evidenzia lo studio nelle marche della CNA. Favoriti, artigiani e cittadini. La pagina di Fano invece, in primo piano, in evidenza, lo zuccherificio. Dopo 5 anni, la resa dei conti, la madre di tutte le varianti, arriva in commissione. PD e SEL orientati alla bocciatura finale. L'atto è la cartina di tornasole della politica fanese tra patti ed interessi. Tutti i commercianti sono contro questa variante. Aguzzi è il principale responsabile della vicenda, causa prima della disfatta del centrodestra. La società Madonna Ponte, proprietaria, perde più di 3 milioni. E pressioni, appunto, di Madonna Ponte, il legale niente rischi a dire di no. Scrive una lettera l'amministratore delegato Gabriele Duranti, una lettera aperta in cui paventa, in termini molto realistici, l'avvio di un percorso fallimentare per la società. Taglia i servizi, bilancio in itinere, le lamentele del consigliere del vecchio per i club anziani, garantiti i disabili sensoriali. Cecchini invece, Francesca Cecchini, la vedete in questa fotografia, figlia d'arte, guida la tua Fano, Francesca sarà coadiuvata da Fiammetta Rinaldi a Luca Servilipe. Ecco i punti programmatici. Sotto l'uso dell'autovelox dei vigili urbani è legittimo, risponde il vice sindaco del comune di Fano Marcheggiani, che contesta l'interpretazione del consigliere dell'Udc riguardo alla superstrada. La polizia municipale, secondo il comandante, sarebbe autorizzata all'uso di una postazione mobile. Nuovo esposto invece alla procura di Primalitalia, che rilancia i dubbi dei comitati su Montefeltro Salute e su mobilità. Poi ancora sotto il fosso di camminate messo in sicurezza, sopra il luogo di consorzio di bonifica e Paolini. Apriamo il messaggero, la politica, PD, patto Marcolini-Ceriscioli, primari accordo tra gentiluomini, chi perde la sfida entra in giunta regionale da esterno, Marche 2020 tesse la tela con Udc e nuovo centrodestra. Forza Italia a nord spingono su Mocchi, a sud su Celani. Ed ecco l'incontro tra Papa Francesco e Lucia Annibali, con l'intercessione dell'arcivescovo Piero Coccia. L'avvocatessa ha incontrato il pontefice, Lucia l'abbraccio di Papa Francesco. Pochi ma interminabili minuti di emozione, l'emozione intima che Lucia Annibali ha provato ieri mattina, quando è riuscita a incontrare Papa Francesco nel giorno dell'udienza generale in Sala Nervi. Con lei anche l'arcivescovo di Pesero, Monsignor Coccia. Ex Zuccherificio, Madonna Ponte lancia l'appello, la società, la bocciatura della variante potrebbe causare un danno a Fano. E ancora, vedete qui la pagina del messaggero, tra l'altro noi segnaliamo anche la presenza del suo, molti fanesi lo riconosceranno sicuramente, padre Filippo che è stato per molti anni anche il guardiano della Basilica di San Paterniano di Fano, adesso è il padre spirituale di Lucia Annibali ed è il frate Cappuccino che si trova nel convento di Fossombrone. Ancora, Pesero all'Expo con il conte Pinoli, non solo Piero Guidi alla Fiera Internazionale di Milano ma anche il ristorante all'interno dell'Alexander Museum. L'albergatore dice siamo tra le eccellenze per il ritorno alle origini di una cucina seria, per questo siamo stati scelti. E infine la pagina di Fano, sfratti incolpevoli, proroga di sei mesi. Lunedì l'ufficiale giudiziario tornerà a Metauriglia dalla famiglia che rischia di finire sulla strada se non si trova una soluzione. Il no alla variante, un danno per la città, ex zuccherificio da Madonna Ponte, appello alla responsabilità. Per la società proprietaria di tutta l'area, questa bocciatura potrebbe avere serie conseguenze fino al fallimento. Ed è tutto per la rassegna stampa di oggi. Grazie per averci seguito. A stasera alle 20.30 con Occhio alla Notizia. Grazie per averci seguito.